Grazie a tutti Di nulla Aspettate, lasciate che vi aiuti Grazie, molto gentile Che è successo? È che ho rotto il ritmo dell'imperatore Cosa? Le sono metodi di giornaliere su modo di comportarsi il ritmo, insomma Io l'ho interrotto il ritmo e mi ha fatto scadaventare dalla finestra Davvero? E io che non devo contare? Attento a rompere il ritmo! Ok Occhio al ritmo! Ehi, è sicuro di stare bene? Il ritmo